Scatman's World Bella naga, ciao a tutti da come il giorno in Veneziano, vai di Olimpiadi come indiane con i salti lungo e il salto triplo maschile e femminili, quindi 4 di queste discipline purtroppo sono una pipa su queste discipline vedi, ma perchè? Allora, vedi nulla, ma DIO CHRISTIUS e qua ragazzi comincia l'America, sono cazzi miei i fioi eh meno male che ho 4 ore di distacco e ciao mamma mia, che seconda delle discipline più belle delle Olimpiadi niente, non capisco il perchè bello mamma mia male ragazzi, molto male ma guarda che roba è vicino un po' ma madonna, regalo troppo ma attenzione il Brasile incredibilmente è primo, mi sta regalando qualcosa di grande il Brasile, grazie brah buono niente da fare, corto corto ma guarda quanto regalo, 7.23 sempre ultimi attenzione gli Stati Uniti sono addirittura terzi mi vogliono bene perfetto, è un livello di velocità nooo vediamo se vorrei che se non era nullo non era neanche nullo, Dio Cristo era perfetto questo niente, finisce qua raga, lo sapevo ottavo posto Brasile-Cina-Usa il paese ospitante si sveglia finalmente e usa bronzo ok il suo triplo è ancora più duro e poi si rifà mettiamo le discipline finali bisogna fare poche discipline alla volta proprio per tenere sempre il medagliere vicino vai dopo questo ci sarà il calcio maschile oh che schifo dopo questo ci sarà il calcio maschile bello mamma mia dai come dai un po' di fortuna anche niente da fare sono una pippa su questo america prima non voglio neanche guardare la classifica scalma ragazzi gran calma e questo è già più buono dai ah no nullo dai ragazzi dai bello 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 forse questo è buono no 17 17 15 dai no in realtà cazzo era buono questo eh forse per la seconda per il secondo turno femminile ma male però sto imparando dai quali stati uniti vanno verso l'oro purtroppo dai come la beffa non era brutta che ho sbagliato proprio quello centrale ma porco due quinto posto it e stati uniti oro oro francia argento complimenti alla francia buona olimpiade veramente e danimarca bronzo brava danimarca ok ok ragazzi andiamo con le discipline femminili sempre tre virgolette perché purtroppo nel gioco non ci sono voglio una medaglia almeno voglio una medaglia anche in questa giornata sono ingordo di medaglie l'america ha tre ori da noi inizio di merda per i gradi ma forse non era nulla vediamo non era nulla ragazzi eh i stati uniti vogliono subito rimontare meno male che il brasile ha strappato quell'oro bravo brasile nullo calma relax scumba relax mamma mia oh male malissimo la gran bretagna sopra gli stati uniti siamo anche fortunati ragazzi non c'è non c'è verso non gira raga non gira due tentativi bello ti prego niente oh ma puttana troia oh torna prima l'america male niente disastro questa disciplina proprio non ci siamo finiamo ultimi con gli states primi eh gli stati uniti stanno tornando lo sapevo era chiaro germania ok ultima disciplina di oggi e dopo ci sarà il calcio maschile ragazzi in uno due video adesso vediamo sarà compesso chiaramente vai vai buono cazzo se è buono un voltio bello questo eh non è nullo e siamo calma calma siamo primi personal best calma porca puttana forse ben capito 8 e 25 siamo a pari merito con la great britain calma no nullo gran bretta attenzione siamo terzi siamo terzi il sogno è quasi finito però voglio una medaglietta stupendo se la zecco è salto da record del mondo niente è nulla forse anche eh sì non deve vincere gli stati uniti però non devono vincere gli stati uniti niente ancora nullo penso infatti dai cume dai cume dai cume dai cume bellissimo ti prego ma vaffanculo niente nullo anche questo addirittura quarti perdiamo anche la medaglia non ci credo oro gb usa argento gb e china bronzo andiamo al medagliere olimpico male qua molto molto male